Massimo Giuliani, attore, direttore di doppiaggio, dialoghista e doppiatore. Lei nel 1959 entra nel cast di Processo di Famiglia, diretto da Vittorio Cottafavi, e ne il romanzo di un maestro, diretto da uno dei padri degli sceneggiati televisivi, Mario Landi. Gli sceneggiati hanno avuto un'importanza didattica notevole per far conoscere i classici della letteratura mondiale agli italiani. Quali sono i ricordi che ha di questa esperienza dei registi e dei grandi attori come Valeria Valeri e Nando Gazzolo, che abbiamo avuto il piacere di intervistare in questo ciclo di interviste e con i quali lei ha lavorato? Beh, io sono stato molto fortunato. Nel 1959 già era qualche anno che facevo l'attore, perché ho cominciato nel 1955, ero proprio, praticamente, si può dire appena nato. Però quelle erano le prime apparizioni televisive. No, io già l'avevo fatto all'epoca, mi pare, sì, già l'avevo fatto Marcellino Pannellini a televisione. Ho un ricordo abbastanza nitido di Processo di Famiglia, un po' meno del romanzo di un maestro, che però ha avuto la fortuna, proprio su Segnalazione della Rai, di andarmi a rivedere perché era uscito in DVD la copia, facevano i grandi sceneggiati all'epoca. Invece, devo dire, Processo di Famiglia, anche di quello ho la copia per fortuna e mi fa molto piacere. Ho dei ricordi molto nitidi, ricordo esattamente, eravamo a Corso Sempione a Milano, a farlo negli studi della Rai di Corso Sempione, ricordo perfetto, si andava in onda in diretta, si faceva una commedia di tre atti, in diretta, con cambi di scenografie, di costumi, al volo, tutto in diretta. Era una cosa pazzesca, si facevano anche 40-50 giorni di prove, eh. C'erano straordinari attori, Enrico Maria Salerno, Lavalerie, Nando Gazzolo, Gianni Santuccio, Evi Maltagliati. Ricordo, e tra l'altro Gianni Santuccio, che era uno straordinario attore di teatro che io ho adorato, adorato, non solo io, lo adorava Strehler, lo adoravano tutti, aveva un neo piccolo Gianni, Gianni non imparava una parola a memoria nemmeno sparato proprio. E allora ricordo proprio che quando facemmo la prova generale, prima di l'andata in onda in diretta, lui non sapeva una parola, tanto che Cottafavi lo coprì di improperi, di insulti, gliene disse di tutti i colori. E la sera dopo, con l'annunciatrice che diceva stiamo andando in onda dagli studi, ricorso sempre una processione famiglia, andranno in teatro di Diego Fabri, tutta la compagnia come teatro si urlava alla famosa parola che porta bene agli attori, che è merda, si può dire tanto. E cominciava, i primi 20 minuti della commedia, eravamo io, Gianni Santuccio, e Evi Maltagliati, anzi è più corretto dire, Gianni Santuccio, Evi Maltagliati e io, che facevo un nipotino, quello che poi si ammazza nella tromba delle scale. E cominciavano a parlare loro, e mi ricordo che io rimasi molto colpito, perché Gianni parlava, e io dissi, ma sai che professionista, questo è stato tutta la notte, tutta la mattina, sveglio a studiare, e si è finalmente imparato la parte del memoria. Poi cominciai a notare delle cose strane, il fatto che lui si andasse a appoggiare, cosa che non aveva mai fatto durante le prove, si appoggiava con la mano alla parete, andava a carezzare delle foglie grandi di una pianta e così, finché lentamente mi accorsi che lui si era scritto le battute dappertutto, se le era scritte sul muro, sulla pianta, sulla foglia della pianta, addirittura la Maltagliati aveva un vestito nero con una pettorina bianca, e lui aveva scritto una battuta sulla pettorina in modo che quando lo andava a prendere c'aveva la battuta, è geniale, è straordinario. Però ecco, quello per me fu un periodo, tra l'altro quello e quello dopo, molto fortunato perché per chi come me ha amato, ama e amerà, credo, questo mestiere, avere la possibilità di lavorare con gente come Santuccio, Salerno, come appunto Nando, Gazzolo, la Valeri e poi Gino Cervi e poi Stuppa e poi Mastro Vianni e poi Tognati, insomma è stato un bel vivere, ho avuto la possibilità di lavorare con professionisti di calibro veramente eccezionale, dai quali ho cercato di imparare qualcosa, poi a me piaceva tanto questo mestiere, per cui stavo sempre là a guardarli, mi piaceva ascoltarli e qualcosina forse mi è rimasto, spero. E con lei nello sceneggiato Il romanzo di un maestro recitano anche altri bambini che come lei poi diventeranno negli anni importanti doppietori, ne ricordiamo qualcuno, Claudio Sorrentino, Piero Tiberi, Roberto Schevalier, Anna Rita Pasanisi e Ludovica Modugno. Che io dico sempre sono le persone che a parte mia sorella, sono le persone che conosco da più tempo, perché i miei genitori non ci sono più, quindi a parte mia sorella sono le persone che conosco da più tempo, perché ci siamo conosciuti che avevamo sei anni, sette, questo era. Quindi un ricordo diciamo dei suoi compagni che crescevano insieme, credo che c'era anche Francesca Palopoli nei panni di una maestra. Mi pare di sì, mi pare di sì. Anche altra importante doppietrice. Bravissima doppietrice. Che reazione ricorda da parte dei suoi colleghi invece di scuola quando l'hanno vista recitare in televisione? E io avevo un grosso problema a scuola, grossissimo, nel senso che io dalla prima media in poi, fino alla maturità classica, sono andato a una scuola di Roma che era il Tasso, un liceo classico molto rinomato, ma molto, molto, molto rigido. Quelli erano periodi in cui veramente io lavoravo già allora tantissimo. Lavoravo quanto lavoro oggi, cioè era una cosa perché c'era tanto lavoro, si faceva tanto teatro, tanta televisione, si andava a fare televisione a Milano, a Napoli, a Torino, per mesi, mesi. E quindi io mi assentavo per lunghi periodi dalla scuola e siccome i professori non vedevano di buon grado questa cosa, io inventavo balle. In realtà dicevo sempre che ero stato male, mi procuravo certificati medici per cui avevo avuto febbre reumatiche per 40 giorni, insomma, un ragazzino di 15 anni, 14 o 16, era abbastanza innaturale. Delle cose pazzesche. Perché ricordo che una volta, purtroppo, io avevo fatto un film nel quale, uno sceneggiato tv nel quale ero stato tinto biondo, completamente, perché dovevo fare un ragazzo olandese. Si chiamava il, non il processo, non l'imbroglio, vabbè adesso è basato su Vermeer e su Van Meckeren, che era questo olandese che aveva fatto delle copie mostruose dei quadri di Vermeer e li aveva venduti per veri. E quando tornai, ovviamente non potevo tornare a scuola biondo, andai da un parrucchiere a Roma per cercare di tornare a un colore normale. Il problema è che scopri allora che da biondo per tornare a Castano non è che ci arrivi così, per cui diventai praticamente rosso. tornai a scuola con i capelli rossi e di fronte alla professoressa di latino che mi guardava sghignazzando, io produssi un certificato medico e lei mi ricordo e mi disse che bella questa malattia che ti fa diventare rosso di capelli. E quindi io soffrivo molto di questa cosa perché non era ben accetta dai professori, dal preside e così via. E i compagni ovviamente mi prendevano abbondantemente in giro per questo. Contemporaneamente però lei inizia anche l'attività di doppiatore bambino, può ricordare i tanti visitatori del nostro sito come e con quale doppiaggio ha iniziato come è stato il primo approccio al mondo delle voci, della sala, dell'Eggio? Allora io facevo proprio Marcellino Panevino e in compagnia c'era un attore bravissimo che faceva frappappina che si chiamava Loris Gizzi. Loris Gizzi era un socio della CDC e siccome questo è un lavoro, il lavoro dell'attore ma del doppiatore anche ovviamente che non ha età, nel senso che servono ruoli per bambini piccoli come servono ruoli per persone molto anziane quindi c'è sempre necessariamente un ricambio perché si ha sempre bisogno di gente giovane dalla voce giovane e quindi a scalare e quindi lui mi disse ti porto a fare un provino per il doppiaggio e io andai a fare un provino alla vecchia Fonoroma non quella della quale stiamo facendo questa intervista quella che stava via Maria Cristina ricordo ancora nella sala A che era la sala più piccola all'epoca nella quale stavano doppiando un film il direttore era Savini e stavano doppiando un film di Jerry Lewis e quindi a Leggio c'era Carlo Romano e allora a un certo punto Gizzi mi portò loro sospesero un attimo la lavorazione e Savini disse adesso ti provo bambino parlava un accento molto bolognese e Savini era molto simpatico pelato, completamente con due sopracciglioni giganteschi e mi misero a Leggio io ero bambino, già avrei avuto sei anni non di più e misero una scena di Jerry Lewis perché non ne avevano altre e io mi girai e dissi ma quello è grande io sono un bambino e Savini gli disse non ti preoccupare bambino tu prova questa cosa io feci questo provino era presente Carlo Romano che doveva iniziare un film di bambini dopo pochi giorni per cui mi chiamò immediatamente io cominciavo il primo film lo feci appunto con la Geri Carlo Romano e con... a Via Margutta mi ricordo non è stabilmente via Margutta e lì incontrai e si creò poi questa cosa con Ludovica Modugna Narita Pasanisi Piero Tiberi così via e tutti gli altri perché era un film pieno di bambini e proprio il riferimento ai suoi giovani colleghi di lavoro e ai suoi molteplici impegni poi futuri in teatro, televisione nel doppiaggio vorremmo chiederle se non ritiene troppo condizionante iniziare da piccoli attività tanto coinvolgenti io se devo guardare indietro ho due stati d'animo diversi da un lato ho il, tra virgolette, dispiacere di non aver vissuto quella che si chiama una fanciullezza e adolescenza normale nel senso che per ovvi motivi il tempo a mia disposizione per me era molto limitato perché fra la scuola lo studio e ripeto fra teatro, televisione, radio doppiaggio, cinema io non stavo fermo mai era un continuo lavorare quindi qualcosa mi è mancato sicuramente la spensieratezza il fatto di non pensare ad altro io per esempio ho sempre avuto una grande passione per il gioco del calcio giochichiavo anche bene insomma poi da grande ho avuto la fortuna con la Nazionale Attori di giocare tanto in stati importanti pieni di gente quindi mi sono sfogato da ragazzino giocavo già allora abbastanza bene per cui ricordo che io a 11 anni 12 andai a fare un provino alla Roma e la Roma mi prese per me era una gioia mostruosa solo che dopo 4 mesi io fui costretto a tornare alla Roma e a dire guardate che non posso continuare perché realmente non avevo il tempo cioè la Roma giustamente pretendeva per i ragazzini 2 o 3 allenamenti a settimana la domenica c'era la partita io in tutto questo andavo a scuola dovevo studiare lavoravo e tutto per cui quindi qualcosa sicuramente ho perso dall'altro lato sicuramente ho guadagnato qualcosa perché per me questo mestiere sin da piccolo era una cosa che mi piaceva da morire da morire proprio mi piaceva fare questo lavoro io ricordo facevo un anno in una tournée estiva facevamo racconto d'inverno di Shakespeare io facevo il principino che moriva alla fine del secondo atto io tutte le sere alla fine del secondo atto di corsa mi cambiavo andavo in platea mi guardavo il terzo atto c'era Ninchi Giuffred Mondaldini Arnoldo Foala Asti quindi fiordattori tutte le sere poi di corsa tornavo su mi ricambiavo per fare i ringraziamenti e mia madre mi diceva ma tutte le sere e diceva no io devo andare mi piace li voglio guardare perché la passione era pazzesca e poi questo mi ha consentito in un paese e in un'epoca in cui comunque trovare lavoro non è facilissimo purtroppo lo sappiamo trovarmi a 18 anni una strada aperta iniziata una carriera già andata molto avanti e quindi senza il problema di pensare che cosa farò da grande abbiamo detto che lei esordisce nel doppiaggio fin da bambino avendo quindi la possibilità di lavorare con le grandi voci e i grandi attori del passato vorremmo un ricordo delle atmosfere che si respiravano nelle sale di doppiaggio negli anni 60 e un ricordo delle voci straordinarie dell'epoca tra le quali quella di Giuseppe Rinaldi che lei ha commemorato in occasione dei funerali del grande doppiatore io continuo a dire io ho avuto anche lì la fortuna di vivere un periodo di grande qualità di questo lavoro con amarezza devo dire che non è più così per me l'ho sempre detto Peppino Rinaldi rimane il doppiaggio tutto a lettere maioscole è Peppino Rinaldi la sua straordinaria capacità di diventare un'altra cosa alla gente comune quando ancora oggi parlando di doppiaggio mi chiedono e quando dico che la persona che doppiava Marlon Brando nel Padrino Paul Newman Jack Lemmon Peter Sellers nella Pantera Rosa Midian Estonza e così via era lo stesso non ci credono mi dicono come è ormai impensabile come la stessa persona quella era la grandezza di Peppino eccellente attore accademia d'arte drammatica cinema aveva delle basi importanti splendida voce ma non lavorava sulla voce Peppino non ha mai cercato di fare la bella voce Peppino ha sempre utilizzato questo mezzo perché è un mezzo per fare un'altra cosa che era quella di andare a raccontare esattamente che cos'era quel personaggio e un attore come Peppino non esiste più ma come lui tanti altri attori non esistono non esiste più Cesarino Barbetti Cesarino è stato insieme a Peppino i miei due punti di riferimento ai miei grandi maestri Peppino con l'affetto e lavorandoci io ho avuto la fortuna di lavorare tanto accanto a Peppino a Leggio quindi proprio ero senza parole senza parole ogni volta che lavoravo con lui Cesarino era anche un teorico Cesarino ti spiegava le cose poi avevamo un rapporto bellissimo era un po' il suo fratello minore quindi ci adoravamo quindi ha sempre avuto grande voglia di spiegare di raccontare mentre Peppino era genio puro Peppino era Giotto Giotto non ti sa dire come si fa il cerchio perfetto lo fa perché è genio Peppino lo faceva era genio e quindi tu lo vedevi a Leggio e dici ma come fa non è pensando non ci credo ed era veramente mostruoso ma accanto a loro una marea cioè dalla signora Lidia Simoneschi che è stata una straordinaria doppiatrice Rosetta Calavetta la ricorderete la voce di Marilyn Monroe Emilio Cigoli Emilio Cigoli Giuseppe Panigali Gualtiero De Angelis ancora oggi Besesti il vecchio Besesti ancora oggi ascoltando dei film degli anni 40 e 50 Gualtiero Besesti si scopre una modernità di recitazione che non è facile trovare oggi uno pensa ambientati negli anni 40 tromboni no assolutamente no gente con una modernità con una una qualità un carisma una personalità che erano veramente fuori luogo certo il clima era molto diverso era divertente se ci penso oggi si entrava in una sala di doppiaggio oggi gli attori aspettano fuori aspettano che l'assistente li vada a chiamare quando tocca a loro all'epoca era impensabile c'erano tutte le sedi in sala tutti stavano per tutta la durata del turno in sala non vedevi nessuno col golf erano tutti in giacca e cravatta si davano tutti del lei impressionante e il direttore era una figura sacra eh beh sacra tra l'altro il primo direttore a lavorare in cabina accanto in regia accanto al fonico è stato Mario Maldesi fino al periodo di Mario Maldesi il direttore stava seduto qua erano due i tavolini adesso ce n'è a fianco del legio soltanto uno che è quello dell'assistente dalla parte opposta c'era l'altro tavolino che era quello del direttore col suo copione lui stava lì in sala accanto agli attori da sempre era così il primo a andare in regia fu Mario Maldesi perché disse io non devo sentire dalla che cosa sta dicendo e come parla ma devo sentire che cosa viene inciso quindi e furono modificate le stanze perché non c'era spazio per un'altra persona inizialmente erano un po' accroccate poi man mano i mobili con dentro i macchinari furono modificati per consentire che il direttore stesse accanto al fonico il primo è stato Mario Maldesi certo c'era un'altra epoca c'era un altro rispetto fondamentalmente continuo a dire c'era un'altra preparazione all'epoca non esisteva il doppiatore puro tra virgolette il doppiaggio nasce in Italia nel periodo del ventennio fascista autarchia impensabile mandare dei filmati in lingua straniera impensabile mandarli con i sottotitoli c'era un tasso di analfabetismo mostruoso in Italia e quindi si inventa inventata di sana pianta in Italia la figura del doppiatore non c'era ma non esistevano i doppiatori quindi che cosa si fece si andò a scegliere più grandi attori di teatro e di cinema e si convince a prestare la voce a colleghi stranieri infatti il doppiaggio all'epoca lo facevano Cervi Paolo Stoppa Alberto Sordi in ruoli drammatici Bruttarelli perché non aveva la qualità e poi fino ad arrivare a Stanley Onglio lui è zambuto una coppia straordinaria ma era tutta gente che aveva fatto accademia teatro cinema quindi con una preparazione culturale specifica del mondo dell'attore che era molto più vasta siamo arrivati fino ai Pinolocchi ai Cesareno Barbetti ai Rinaldi per l'appunto ai Ferruccio Amendola e così via da lì in poi è cominciata noi che eravamo ragazzini ma avevamo iniziato in un certo modo quindi con grande anche noi conoscenza specifica del settore attore da lì in poi sono cominciati a uscire soltanto i doppiatori puri cioè gente che era nata cresciuta vissuta e morta davanti a un leggio il che significa chiaramente una visione un pochino più ristretta il che significa una qualità diversa con qualche mio collega più giovane che è anche sulla onda del successo io dico sempre hai fatto un po' di soldi fai una cosa prendete un anno sabbatico e fai un anno due teatro e mi dicono vabbè ma che mi serve e io gli rispondo e ho sentito un film di Shakespeare che hai doppiato fidati e te serve perché se non sai che cos'è il teatro elisabettiano che cos'è Shakespeare recitare in quel modo non è facilissimo se non hai quella preparazione se non hai se non sai che cosa vuol dire il costume recitare il costume rischi di andare a fare delle cose un po' mediocre allora purtroppo poi il fatto che si sia continuati ad avere soltanto una genia di doppiatori puri ha fatto sì che la qualità insieme ad altri elementi che sono il taglio del costo i tempi sempre più ristretti ha fatto sì che la qualità oggi del doppiaggio medio che si fa in Italia sia largamente inferiore a quello che si faceva una volta purtroppo per la storia del doppiaggio avremmo cortesemente necessità che lei ripercorresse la sua storia in seno alle società di doppiaggio beh io sono stato in una sola società perché io ho iniziato piccolissimo appunto facendo un provino alla CDC che era la più grossa società dell'epoca cooperativa doppiatori cinematografici che faceva penso il 70-80% della cinematografia poi c'erano la CID che faceva soprattutto film italiani e la SAS che faceva però film considerati minori da piccolino ovviamente non potevi essere socio non avevi l'ità però immediatamente a 8-9 anni si poteva fare allora mi fecero firmare un contratto di esclusiva e quindi io potevo lavorare solo con loro il contratto di esclusiva che è arrivato a 18 anni è stato tramutato in associazione e io sono stato socio consigliere d'amministrazione poi della CDC fino al giorno non vorrei sbagliare ma mi pare sia l'86 87 in cui mi ero un po' stancato di certi meccanismi interni che non mi piacevano più e che poi secondo me hanno portato un pochino a un decadimento di quella che era all'epoca CDC e decisi di andarmene sono rimasto per un certo periodo di tempo libero e basta dopodiché cosa che non avrei mai voluto fare avevo sempre detto figura di io non lo farò mai per una serie di concomitanze mi sono in qualche modo trovato costretto a aprire una società e questo è avvenuto nel 96 e da allora con questa società io e mia moglie abbiamo avuto un buon successo siamo contenti di varie edizioni italiane di cui fra poco parleremo assolutamente lei ha prestato la voce in tanti ruoli importanti vorremmo approfondire alcune interpretazioni in primis Christopher Walken nel Cacciatore 1978 uno dei ruoli più acclamati del cinema contemporaneo e che è valso l'Oscar al suo interno bravissimo come ha affrontato la lavorazione beh fu molto divertente perché all'epoca furono fatti provini per alcuni ruoli non ovviamente per De Niro che faceva Ferruccio ma per gli altri ruoli furono fatti provini e la cosa buffa è che io feci provino per due attori per Christopher Walken e John Savage e li vinsi tutti e due cioè l'America indicarono me come prima scelta per cui ovviamente non poteva essere possibile e il direttore del doppiaggio che era stranamente Valerio Zurlini fece lui o però lui la scelta e fece fare a me Christopher Walken e a Cesarino Barbetti straordinario anche in quell'occasione fece fare John Savage dico stranamente Valerio Zurlini perché il film era distribuito dalla Titanus la Titanus aveva un contratto con Zurlini per fargli fare un film gli aveva già tra l'altro dato un congruo anticipo il film non si fece allora in qualche modo per rientrare di questo denaro che comunque avevano pagato per il fatto che era sotto contratto gli affidarono la direzione del film Zurlini però non era avvezzo alla sala di doppiaggio insomma beh aveva fatto no sicuramente non aveva mai fatto il direttore di doppiaggio lui lo faceva soltanto per i suoi film in realtà infatti si era molto affidato a noi alla nostra esperienza io ricordo insomma gli attori erano Ferruccio Amendola Maria Pia Di Meo Maglio De Angelis Glauco Honorato Luciano De Ambrosis io che ero il più giovane ma era tutta gente che aveva una Flaminia Iandolo aveva una tale esperienza che poteva supportare anche il fatto che la persona dietro al vetro fosse un pochino da quel punto di vista le prime armi lui c'era sempre stato come regista dei suoi film quando doveva ridoppiare qualcosa ma come direttore di un film americano credo fosse capitato uno o due volte al massimo però è così noi capimmo immediatamente quanto era bello importante quel film insomma credo che il prodotto dell'epoca sia stato un prodotto veramente buono insomma per me fu una grande soddisfazione anche se poi l'ho rifatto soltanto un'altra volta mi pare Christopher Walken però insomma mi piacque molto farlo e mi piacque il risultato finale era molto bello secondo me secondo ruolo John Belushi in The Blues Brothers 1980 pluriacclamato e pluriamato cosa ricorda del doppiaggio e quali furono le sue prime impressioni guardando il film prima di doppiarlo vorrei un attimo che ci concentrassimo su questa cosa perché all'epoca i film importanti vi veniva consentito di poterli vedere prima assolutamente ed era sacrosanto sacrosanto io adesso oggi come direttore quando riesco a fare una cosa del genere ci provo sempre dico facciamo fare una visione prima agli attori è raro che ci sono riuscito recentemente perché poi era un film particolare che era un film che deve ancora uscire si chiama Hitchcock con Anthony Hopkins irriconoscibile irriconoscibile nel ruolo di Hitchcock trasformato e siccome erano stati fatti i provini perché dall'America avevano chiesto volutamente non la solita voce perché avevano paura che si riconoscesse Anthony Hopkins mi sembrava giusto e corretto comunque sacrosanto fare un provino a Dario Penne che è magistrale nell'interpretazione di Anthony Hopkins fra gli altri il provino l'ha fatto anche Gigi Proietti e ha vinto lui il provino per cui prima di farglielo doppiare ho detto a Gigi andiamoci a vedere un attimo figlio l'ho visto e lui era ben felice infatti ma è uno dei rari casi all'epoca si faceva normalmente io ricordo che andammo a vedere la proiezione del film io Piero Tiberi che doppiava The Necroid bravissimo Piero bacio e Sergio Feliciati che era il responsabile della distribuzione alla fine della proiezione mi disse ah ma che ne pensi di sto film e ricordo come una delle toppe più grosse della mia carriera io lapidario dissi guarda Sergio il film secondo me è straordinario sti due sono due fenomeni sono due geni veri il regista secondo me è un genio secondo me sto film non fa una lira proprio ci ha azzeccato in pieno no la valutazione del film l'avevo data giusta però sull'esito ho detto guarda è troppo intelligente sto film non fa una lira mi dispiace Sergio perché è bello ma secondo me non fa veramente una lira pensate quanto ci avevo azzeccato è anche la voce però di Bugs Bunny nella saga dei Looney Tunes e non solo è vero che dovete sostenere ben sei volte sette sette volte allora ci dà una notizia inedita e cosa ricorda della sua visita a Los Angeles la visita a Los Angeles è stata una cosa no sette provini perché andavano scremando siamo partiti in tanti man mano scremavano e avevamo adesso non ricordo purtroppo il nome di questo supervisor americano che parlava anche bene italiano che ogni volta diceva Massimo molto bene adesso dobbiamo andare a fare qualcosina ancora di più perché ancora li puoi migliorare e cerca ricordo che c'era una sorta di disputa molto simpatica fra me e lui perché lui tendeva a darmi indicazioni di carattere tecnico mentre io dicevo no guarda io sto seguendo una strada diversa io vado per suoni mentre lui mi diceva tu stai chiudendo il palato così prova a chiudere io dico non so come sto chiudendo il palato non mi dire questo perché io non sto lavorando su una meccanica che riesco a controllare io sto lavorando su una meccanica nel tentativo di trovare un suono e quando lo trovo lavoro su quello quindi se tu mi dai questa indicazione su come chiudere il palato non so di che stai parlando io sto andando a cercare un suono e man mano comunque ci siamo sempre più avvicinati finché alla fine erano contenti hanno scelto me e l'ultima cosa fu bellissima perché mi disse l'ultimo provino ero solo io il settimo mi disse no tutto bene adesso facciamo un attimo siccome lui canta spesso provino ti canto io gli dico guarda ho un problema io canto benissimo quindi non ho problema dramma perché cantare a gola libera è una cosa cantare con la gola chiusa e con una voce artefatta ti rendi conto che improvvisamente ero calante sulle note io ho detto come è? e c'è certo per quello facciamo provino perché non è facile e infatti in effetti era molto complicato e poi niente una volta io ero in vacanza con la mia famiglia negli Stati Uniti e evidentemente l'avevano saputo dalla filiale italiana della Warner e mi arrivò in albergo io stavo a Berlilsa una mattina alle 9 una telefonata il signor Giulia ha il telefono io mi faccio un rapido conto di ora dico 9 in Italia che ora è? ma chi mi chiama a quest'ora qua? poi sto qua a tutti quanti e invece era la Warner che mi disse guardi sappiamo che lei è lì già questo mi metteva paura ti senti subito accerchiato d'Asia dalle FBI e così via dice allora se lei oggi non ha impegni avremmo piacere ad avere l'ospite nostro una giornata negli studios e io dissi sto in vacanza quindi non ho impegni le mandiamo una macchina fra mezz'ora io uscisi dall'albergo stavo là con mia moglie e mio figlio aspettati arriverà sta macchina a un certo punto ed era parcheggiata lì già da un po' c'erano quelle classiche da film limousine nere lunghe 16 metri circa si aprì lo sportello uscì fuori come da film l'autista di colore col cappello e la visiera che mi disse Miss Giuliani mi aprì lo sportello era un appartamento praticamente sta macchina arrivammo agli studios a Burbank della Warner dove c'era la macchinetta elettrica VIP con il direttore degli studios che mi venne accogliere e ha passato tutta la giornata con me mi ha portato a vedere tutto mi ha fatto vedere tutti gli studios mi ricordo mi fece assistere a una registrazione di IAR c'era George Clooney infatti mi ha fatto vedere tutte le costruzioni esterne la cosa che mi colpì pazzesca mi disse se vuole vedere il parco macchina ho detto che meraviglia sì mi portò su una collina e sotto c'era una vallata ci sono state 3.000 automobili 4.000 di tutti i tipi di tutte le epoche per cui c'erano tutte le ambulanze poi c'erano tutte le macchine della polizia di tutti i paesi era una cosa sconvolgente mi portò a vedere i costumi era un parallelepipedo proprio che sarà stato lungo 8-900 metri largo 400 fatto tutto a scaffalature lunghissime non so una solo di cravate una soltanto di camicia una cosa impressionante potevano produrre qualsiasi no sono in grado di fare veramente quello che vuol dire industria del cinema e poi mi hanno coperto di regali a pranzo con noi tutto quanto e poi ricordo che alla fine mi hanno portato a vedere il museo nel quale c'era un piano dedicato proprio ai cartoni animati alla voce dei cartoni animati che per loro è stata una storica pazzesca eccezionale che li faceva tutti senza ausilio elettronico quindi lui faceva le voci della nonna del canarino di Bugs Bunny di Silvestro di Daffy Duck a Tasman tutte era sempre lui pazzesco e mi raccontarono tra l'altro purtroppo Peraccio era morto di cancro alle corde vocali quindi pensate quanto le aveva lavorate e poi alla fine della giornata io ero anche imbarazzato di un trattamento così regale e quando all'uscita io ho ringraziato i dettori degli studios e ho detto guardi io sono anche un po' in imbarazzo perché ma avete trattato in un modo non ho parole cioè io non è che sono Marlon Brando e lui mi ha guardato ed era la sintesi del cinema americano ma ha detto a lei ci fa guadagnare del denaro quindi lei per noi è molto importante e questa è la loro sintesi produci denaro sei importantissimo una grande lungimiranza e grande rispetto per il lavoro assolutamente gli americani altro ruolo e la nave va 1983 dove doppia il conte di Bassano 5 ne ho doppiati eh allora perché Federico Fellini insomma Fellini aveva questa cosa lui si divertiva molto sosteneva che per lui l'ideale dal punto di vista della omogeneità artistica era fare il doppiare tutto il film a 3-4 persone e che facevano ognuno una quantità di personaggi in quel film io ne ho fatti 5 io ho fatto vabbè il conte in tedesco poi ho fatto il poeta napoletano poi ho fatto uno in italiano e gli altri due se non me li ricordo però ricordo che erano 5 tanto che io dicevo ma ma non mi si riconoscerà non ti preoccupare tesoro tanto lì parli tedesco lì napoletano qua è lontano chi se ne accorge sempre con quest'aria molto simpatica e molto buon'aria e infatti ricordo ne fece 5 ne fece 4 Livia Giampalmo di personaggi 4-5 Oreste Lionello Solveig D'Assunta ne fece pure le 4-5 e lui praticamente con 7-8 attori ha doppiato un film perché dice così c'è una uniformità una omogeneità artistica che se no faticherei ad avere però come si rapportava con il direttore di doppiaggio che credo fosse Riccardo Cocciola Riccardo era una persona adorabile che aveva però un suo modo abbastanza divertente che era quello di fare un po' il musetto quando ti doveva dire le cose faceva Massimino per foro ne fai un'altra e lui ogni volta Federico faceva Riccardino non piangere tanto Massimo la rifà uguale anche se non piangi sai non piangere Riccardo perché era un suo modo però insomma andavano poi abbastanza d'accordo aveva questa sua cosa per chi conosce un po' il doppiaggio insomma sa che esiste una cosa che si chiama fare campo cioè quando la focale sul personaggio non è in primo piano ma il personaggio è in campo lungo se siamo in interno l'attore si scosta da leggio per dare il senso della profondità e lui fu invece uno di quelli Fellini che diceva no no fate tutto e se no poi al mix non mi diverto se avete fatto tutto voi che ci vado a fare io al mix no mi devo divertire e quindi aveva questa cosa che noi dovevamo stare tutti attaccati al leggio tra l'altro quando lui fece la versione francese del film mi chiamarono perché lui voleva che io rifacessi perlomeno il conte nella versione francese e io ho detto attenzione io sono in grado di fare uno che parla italiano con l'accento tedesco perché poi lo conoscevo il tedesco quindi lo posso fare non so com'è però l'accento io parlo anche un po' il francese ma non sono in grado di fare un francese che ha l'accento tedesco che è complicatissimo e lui volle comunque che io andassi a fare questo provino e mi ricordo che io andai a fare il provino alla Vides e al direttore francese gli dissi guardi sono un po' imbarazzo perché io non ritengo di essere in grado di fare questa cosa non viene bene non la so cioè io penso di aver fatto un buon lavoro nella fase italiana ma non mi sento in grado di farlo lui mi dice guardi il maestro ci tiene tanto ha insistito fino alla morte facciamo almeno un provino e io feci il provino e lui mi disse no io sento che lei è un italiano che parla francese e che fa tedesco e dico ma lo so anch'io per cui per fortuna poi non lo fece e ultimo ruolo abbiamo scelto una cosa un po' di nicchia Hotel Colonial 1987 se ricorda da chi fu diretto il doppiaggio del film Rosy Rocchi ah Rosy Rocchi e sebbe modo di lavorare e conoscere Massimo Troisi no io l'ho conosciuto al di là del film persona squisita adorabile no già all'epoca si faceva tutto in colonne separate quindi ci fu un fatto abbastanza divertente per quel film perché furono fatti dei provini per doppiare John Savage quella volta feci vinci però io finalmente sono riuscito a farlo e doppiai tutto il film con Rosy e il film era di Cinzia TH Torrini quando arrivarono stavano per andare al mix mi chiamò Rosy Rocchi e mi disse guarda Massimo ti devo dire una cosa purtroppo che c'è stato nel controllo prima di andare al mix qualche dubbio sulla voce proprio sul colore di voce e Cinzia vorrebbe forse una voce diversa proprio di qualità vocale di pasta vocale diversa non è un problema artistico per cui ti volevo informare che purtroppo ridoppieremo il film io ti disse beh però mi dispiace onestamente guarda hai fatto uno splendido lavoro è proprio un problema di colore vocale ridoppiarono tutto il film con un altro collega con veramente una voce profondamente diversa dalla mia quando andarono poi al mix provarono e non funzionava perché era scollava come si suol dire dalla faccia John Savage rimontarono tutto il mio doppiaggio che a quel punto invece aveva convinto anche la Torrini missarono il film in questo modo io mi ricordo che incrociai proprio qua alla Fono Roma all'ingresso che era appena uscito dal controllo incontrai John Savage e mi fu presentato e lui mi disse pazzesco incredibile mi sembravo io che parlava italiano c'è la voce uguale poi hai preso le sfumature e mi coprì di complimenti cosa che ovviamente mi fece molto piacere sono quelle cose che fanno molto piacere entrando un po' nella parte ultima parte di questa intervista anche più critica sul mondo delle voci un fenomeno degli ultimi anni è quello di chiamare personalità famose i cosiddetti talent per doppiare personaggi di grande richiamo è chiaro lo scopo pubblicitario che è la base dell'idea ma spesso notorietà e qualità non si abbinano lei è riuscito però in questo connubio chiamando a Leggio dopo molti anni ce lo accennava un grande professionista come Gigi Proietti per doppiare Anthony Hopkins in Hitchcock ci ha accennato insomma dei motivi della scelta se poteva parlarci della lavorazione con Gigi Proietti e magari anticiparci anche il resto delle voci del caso si faccio un discorso di carattere generale noi abbiamo ereditato questa cosa dall'America dell'uso del talent in alcune occasioni soprattutto nei film di animazione soprattutto in alcuni casi particolari con una profonda differenza noi abbiamo utilizzato personaggi televisivi che fanno altro nella vita che non fanno gli attori in America quando fanno operazioni di questo genere chiamano Jack Nicholson Michel Pfeiffer Alpasino questi sono i talent che loro utilizzano noi abbiamo fatto una scelta di carattere completamente diverso e qui c'è la differenza rispetto a loro proprio sul piano è raro forse uno dei casi pochi pochissimi è proprio l'era glaciale l'era glaciale sono stati utilizzati attori da Claudio Bisio a Pino Insegno un anno l'ho fatto anch'io ne ha fatto uno Pannofino Leo Gullotta cioè stiamo parlando di professionisti che hanno trovato modo di fare quella cosa in molti altri casi invece è stato utilizzato personaggio noto ma che non ha la conoscenza specifica e le qualità per recitare nel caso invece di Gigi come è stato per Giancarlo Giannini per Wall Street stiamo parlando di straordinari attori che hanno tra l'altro una conoscenza diretta del mezzo cioè del doppiaggio Gigi non è che il doppiaggio ne ha fatto tantissimo Gigi ha doppiato ha doppiato De Niro ha doppiato Dustin Hoffman in Lenny ha doppiato il primo Rocky Silvestre Stallone il Rocky numero uno era Gigi che poi non gli andava di farne altri per cui mollò e poi il film passò alla Cdc ad Amendola la devo dire il grande piacere che ho provato con Gigi con Giancarlo con attori di questo calibro a lavorare è la possibilità di cercare di fare bene un lavoro e quindi di non avere problemi a rifare una scena 30 volte e questo è straordinario perché tu hai a leggio gente che ti potrebbe pure dire ma io so ma come e invece la loro grandezza la loro straordinaria arte la loro professionalità fa sì che siano a disposizione per cercare di fare nel modo migliore il prodotto e quindi se serve io ecco nel caso di Hitchcock a volte era Gigi quando io dicevo questa è bellissima che mi diceva sei sicuro non è che la vogliamo risentire perché mi pare che lui lì fa una cosa forse non l'ho presa bene fammi rivedere quindi con una disponibilità e con la voglia di fare bene che è importante secondo me ha fatto un lavoro eccellente Gigi veramente eccellente ha avuto i complimenti fatti da regista americano Sasha Gervasi che l'ha sentito e ha detto ammazza straordinario ha fatto una cosa pazzesca come è stata straordinaria ma non è una novità ad Amaria Serra Zanetti a fare un'attrice che quando la vedo sembra che sia lei a parlare in italiano che è Helen Mirren bravissima quando ha fatto la regina ma straordinaria veramente anche in questo film il film è molto bello il doppiaggio mi sono divertito a farlo perché poi quando lavori con attori bravi con gente che ha voglia quando ti metti in qualche modo non devi portare solo a casa un risultato di tre ore di lavoro ma devi cercare di farlo bene e hai totale disponibilità e collaborazione da parte di tutti questo diventa bello poi c'erano che ne so altre attrici c'era Loris Lodi poi c'era Domitilla D'Amico poi c'era Roberta Bellini Laura Romano stiamo parlando di gente di grande qualità Stefano Tesando quindi è anche facile lavorare e ottenere risultati però è bello quando questo si può fare con grande disponibilità e questa è una cosa per la quale Gigi in primis proprio bisogna ringraziarli perché non è facilissimo a volte c'è qualcuno che fa stabilmente sul doppiaggio che ha atteggiamenti molto diversi purtroppo da quelli che hanno invece questi grandi che hanno una disponibilità una voglia di lavorare pazzesca io ricordo un aneddoto io ho cominciato a fare direttore molto giovane alla Cdc sono stato credo uno dei più giovani perché mi hanno fatto direttore che avevo 30 anni quindi proprio all'epoca era impensabile uno così giovane e uno dei primi film che diressi alla recording era un film in cui il protagonista era Marcello Mastroianni che aveva girato tutto in lingua straniera e doveva doppiare io doppiare tutto il film e poi fece tutta la colonna di Marcello con la quale con il quale avevo lavorato avevo fatto un film come attore però erano passati tanti anni poi stiamo parlando del divo Mastroianni era una cosa pazzesca e quindi mi ricordo che il primo turno ciao Marcello come stai? oh ciao ti ricordo ma certo che mi ricordo che piacere qua là devo fare io ma certo già quello insomma che poteva dirti che fai te? quando? manda uno vero e invece no grande disponibilità e ricordo Primi Annelli lui a Leggio che stava là incideva andava molto spesso più che bene qualche volta c'era bisogno di dirgli qualcosa quindi sempre insomma la massima cautela no? perché uno dice come fai a dire Mastroianni che doppia se stesso non l'hai fatta bene quindi è un po' complicato allora all'inizio sì Marcello bellissima ho l'impressione che quella fosse levemente corta forse lì il volume era un pochino troppo basso rispetto allo al quarto quinto al sesto anello sempre in questo modo al sesto anello capita anche che è uno straordinario genio come Mastroianni la fa male sbaglia st'anello non lo fa bene non è facile spingere il pulsante alla e dire non è bella fanne un'altra perché teoricamente quello si può girare e dire ma chi sei te per cui io ricordo che partì facendo un giro infinito dicendo bellissima per carità se sei d'accordo Marcello risentendola ho l'impressione che in qualche punto si possa andare a vedere se cerchiamo una cosa terribile e lui mi ricordo che mi dava le spalle stava a leggere con gli occhialetti da lettura mentre io parlavo se girò mi guardò e mi disse ma che te stai a fare problemi per dimmi che ho fatto una stronzata dimmi come va fatta facciamo e fammo prima questo per dire la grandezza di un professionista straordinario che sta là rispetta i ruoli si fida della persona che sta là dietro in qualche modo si fa guidare con grandissima disponibilità non è così un'umiltà dei grandi dalla quale molti magari dovrebbero anche imparare e parlando proprio di grandi abbiamo detto che lei è anche direttore del doppiaggio vorremmo sapere come ha affrontato la lavorazione la direzione di Wall Street il denaro non dorme mai del 2010 trovandosi a dirigere mostri sacri del doppiaggio noi così li abbiamo definiti e tali possono solo essere definiti come Giancarlo Giannini Maria Pia Di Meo e Sergio Graziani allora sono due discorsi diversi Maria Pia e Sergio ho un rapporto con loro da che faccio questo da che avevo sei anni li conosco sono cresciuto insieme a loro ho cercato disperatamente di imparare sempre da tutti e ho sempre avuto un ottimo rapporto con loro quindi con Sergio anche con Maria Pia devo dire veramente ho lavorato tanto ed è una persona che a loro la trovo straordinaria Maria Pia qualità suprema e Sergio uguale con Sergio tra l'altro mi è capitato come direttore in più di una circostanza di rifarmi a un vecchio modo che avevamo all'interno della CDC all'interno della CDC c'era una cosa che si chiamava il PF e che veniva a turno fatto da tutti il PF era per favore cioè a volte capitava che per un ruolo anche minimo servisse un attore molto bravo allora se diceva il direttore all'attore ti vado a venire a fare un PF perché è vero che so quattro anelli ma serve uno veramente bravo e questa cosa noi vecchi dell'epoca ce la siamo portata presso e io devo dire con soprattutto con Sergio ne ho abusato anche perché ha approfittato dell'affetto che ha per me Sergio per cui in più di un'occasione gli ho detto Sergio PF aiuto mi viene a fare questa cosa ma a te pare una volta io ricordo che madre Teresa di Calcutta lui è venuto e ha fatto tre righe tre righe di un bonzo indiano che stava morendo dire magistrali e stupefacenti e dire poco e uno capisce perché dice chiedi un PF perché nessuno l'avrebbe fatta tre righe come ha fatto Sergio quella cosa e ultimamente per esempio doppiando una cosa che deve ancora uscire che si chiama 11 settembre 1689 di Martinelli un ruolo importante tra l'altro segnalato da me al regista l'attore italiano era stato fatto da Gianni Musi Gianni purtroppo poverino è morto dopo il girato e quindi il film era stato fatto tutto in inglese andava doppiato e allora mi sembrava giusto che per doppiare uno straordinario attore venisse chiamato uno straordinario attore per cui ho chiesto a Sergio ti va di fare questa cosa e Sergio con la grandezza che è dei grandi mi ha detto guarda non voglio nemmeno i soldi per me è un onore venire a fare questa cosa ti ringrazio di avermi concesso questo onore quindi vengo veramente e ha fatto anche lì una cosa magistrale e quando si trattò di doppiare Eli Wallach in Wall Street non poteva che essere lui ed era straordinario ha delle qualità ha delle genialità non è mai scontato Sergio ecco la maggior parte purtroppo di certi doppiaggi di oggi sono che tu quello dice la battuta e già sapevi che l'avrebbe detta così sicuro ecco Sergio non ti dà mai questo Sergio non sai mai e dice geniale c'ha sempre qualcosa di strano Maria Pia non ne parliamo Bruno Alessandro un altro straordinario doppiatore che ha fatto l'angella e Giancarlo invece lì il divertimento è stato grande devo dire perché Giancarlo è uno al quale tu veramente dici di rifare 40 volte la scena lui la rifà 40 volte non ti dirà mai ma va bene che palle o cose di questo genere quindi grandissima disponibilità la battaglia ritorna a doppiare appunto Michael Douglas e ritorna a doppiare Michael Douglas dopo averlo fatto nel primo Wall Street che era stato all'epoca dichiarato da Mario Maldesi un abbraccio anche a Mario e la difficoltà con Giancarlo più che con altri per esempio Gigi ce l'ha molto di meno questa cosa Proietti Giancarlo tende un pochino a prevaricare l'attore tende a a essere a tirare fuori Giancarlo Giannini parliamo di un attore straordinario quindi non è che tira fuori poca roba però a volte che succede che va in una direzione che non è quella presa dall'attore per cui in alcuni casi il mio compito era poi quello di a Giancarlo ma lui sta a fare un'altra cosa e e vabbè ma io l'ho fatta così ho capito ma noi dobbiamo fare quella Giancarlo ma allora perché mi chiami a me mi faceva tanto lo sai che io poi sono uno che vuole fare diverse le cose ho capito Giancarlo ma io sto qua proprio invece per riportarti a fare andare appresso a lui perché il suo istinto da grande attore è quello di andare un po' come dire per la tangente di partire e andare un po' su zone che invece magari quell'altro ha evitato però poi uno di quei connubi è un connubio perfetto Giancarlo con Michael Douglas anche lì è uno che sembra che parla lui in italiano che è il vero segreto cioè il doppiaggio dovrebbe essere quello lo spettatore deve pensare che Michael Douglas Anthony Hopkins o chi per loro sono attori che parlano italiano non deve pensare assenti il doppiatore non dovrebbe teoricamente mai riconoscerlo il doppiatore da un po' di tempo a questa parte i doppiatori hanno il gusto di essere riconosciuti e quindi questo gusto che cosa fa? fa sì che si senta un po' troppo il doppiatore e un po' meno l'attore e questo è l'errore più grosso che bisognerebbe cercare magari anche di recitarsi addosso che spesso diciamo è una trappola nella quale si può diciamo incappare un altro fenomeno di attualità è quello relativo ai ridoppiaggi di film del passato ma non solo per via dell'audio scadente si realizzano ridoppiaggi per le edizioni DVD e Blu-ray e si ridoppiano classici della cinematografia straniera la stessa necessità dovrebbe riscontrarsi per i capolavori italiani del neorealismo ma nessuno sogna di ridoppiare Roma città aperta lei che posizione ha nei confronti di questo fenomeno e che effetto le ha fatto il ridoppiaggio di Via Colvento e c'era una volta in America e ho sofferto molto ho sofferto molto Via Colvento fu un'idea di Mario Maldesi ridoppiarlo pur con bravissimi professionisti era un'altra cosa non aveva il sapore si andava a cercare di scimmiottare un modo di recitare che nell'epoca in cui fu doppiato Via Colvento gli anni 40 aveva un senso ed era giusto fatto negli anni 70 era semplicemente una imitazione di una cosa fatta ad altri in un altro periodo e quindi non era giusto e poi continuo a dire non soltanto il cinema del neorealismo italiano ma non è che se in America fanno il DVD o il Blu-ray di c'era una volta in America o Via Colvento lo ridoppiano tengono qui la qualità perché è quella ora non si capisce per quale motivo siccome dobbiamo fare il DVD e dobbiamo passare al digitale la qualità sarebbe scadente si massacra qualcosa che è stato fatto e che aveva io ho sentito ridoppiato anche il padrino e con tutta la stima e l'affetto che ho per i miei colleghi non sentire Peppino Rinaldi a fare Don Vito Corleone mi è venuto un colpo al cuore ho sentito c'era una volta in America non sentire Ferruccio a fare De Niro e a dire che cosa hai fatto in tutto questo tempo sono andato a letto presto cioè è un dolore perché perché non è giusto cioè ti devi tenere quel prodotto di quell'epoca lo metti in DVD avrà un suono diverso ma ci sono dei oggi c'è in recupero del 33 giri del 45 giri che è il fruscio del vinile che ha un suono diverso viva Dio è quello il suono di quell'epoca e di quel lavoro perché farne un altro e andare tra l'altro a trovare una qualità che mediamente è sicuramente più bassa di quella originale il cinema italiano almeno nel passato è stato noi abbiamo definito un cinema drogato di doppiaggio o dal doppiaggio questa affermazione le sembra irriverente nei confronti dei grandi maestri come Roberto Rossellini o Sergio Leone o Bernardo Bertolucci che hanno utilizzato in modo sostanziale il doppiaggio pur criticandolo forse solo Sergio Leone era assieme a Fellini un grande stimatore del doppiaggio ma fino agli anni 70 per fare capire quando si doppiavano i film italiani proprio a livello di paghe sindacali contrattuali il film italiano veniva pagato di più ma per un semplice motivo perché sapendo che sarebbe stato tutto doppiato in presa diretta non veniva utilizzato il microfono non veniva registrata la parte sola tanto si sapeva quindi perché perdere tempo a usare il microfonista cose sapendo che sarebbe stato completamente ridoppiato e quindi noi andavamo a leggere e doppiavamo tutto il film sul muto totalmente il che prevedeva una fatica sicuramente maggiore perché ti dovevi andare a cercare tutti i punti di riferimento visivi a volte ci mettevamo sotto lo schermo a guardare bene perché non si capiva in campo lungo dove cominciava a parlare e quindi era un lavoro da quel punto di vista molto faticoso è vero che tanti attori italiani hanno avuto un grosso appoggio e un grosso aiuto dal doppiaggio dei doppiatori italiani ma basta la prima cosa Bud Spencer e Terence Hill ma per dirne una ma per citare tanti altri attori italiani che non hanno mai parlato con la propria voce ma che sono sempre stati doppiati dagli anni 40 in poi qualcuno forse ha esagerato da questo punto di vista qualcun altro l'ha sfruttato nel modo giusto per ottenere dei risultati che probabilmente all'epoca non avrebbe ottenuto quella era un'epoca e sta tornando anche adesso in cui era importante la faccia in cinema poi se sapevi recitare non era importante purtroppo stiamo ritornando a quello che sono più importanti le facce le curve e così via io parlo sempre con alcuni miei amici registi italiani e dico sempre se dipendeva da voi e se erano in Italia gente come Dustin Hoffman e Alpasino facevano altro mestiere perché sono piccoli brutti non sono alti biondi e con gli occhi azzurri dico quindi per voi non li avreste mai proprio cagati mai considerati loro in America per fortuna da questo punto di vista proprio stanno 400 anni oltre e sì e poi c'è stata sempre molta polemica sul doppiaggio ma anche sul doppiaggio dei film stranieri ci sono sempre stati questi due schieramenti quelli che hanno sempre detto il doppiaggio non andrebbe fatto bisogna sentire tutto in lingua originale e così via bisogna partire da un presupposto importante lo so che è meglio la lingua originale ma quanti sono in grado di leggere Shakespeare in inglese quanti sono in grado di leggere in Norvegia Dante Alighieri in italiano allora che facciamo impediamo alla gente di conoscere Shakespeare o Dante Alighieri o prendiamo non un traduttore ma un poeta e facciamo fare la versione in italiano di Shakespeare e in norvegese probabilmente di Dante Alighieri e la stessa cosa vale per il doppiaggio bisogna cercare di fare la miglior traduzione possibile interpretata di qualcosa che è stato fatto da qualcun altro se tutti conoscono l'inglese benissimo ci vediamo il film in inglese in Italia allora se devo mettere i sottotitoli commetto comunque una scorrettezza perché il sottotitolo per motivi di tempo deve essere molto conciso molto succinto non posso pensare di scrivere tutto quello che viene detto perché non c'è il tempo di lettura il che significa che il monologo dell'amleto non sarà essere o non essere questo il problema se gli sia più nobile soffrire i sassi e i dardi dell'oltragiosa fortuna o prendere armi contro un mare ma diventa molto perché non c'è il tempo quindi commetto una scorrettezza nei confronti dell'autore perché non dico quello che ha scritto ma dico la metà non solo ma l'occhio dello spettatore se non conosce la lingua dove va sul sottotitolo il che vuol dire che non lo guarda l'attore quindi io preferisco che sia fatto una bella traduzione una bella interpretazione in lingua italiana di quello che è stato fatto da un attore straniero per consentire allo spettatore di godere il problema è che spesso e volentieri non è fatta così bene o si tende a prevaricare o si tende a o non si è all'altezza di quegli attori e quindi lì si fa un lavoro che purtroppo non è corretto era giusto non parlare del fatto che gli attori italiani fossero doppiati e lei ha mai doppiato un attore italiano? sì sì come tutti come tutti tra l'altro io ho avuto un caso abbastanza particolare nel senso che io feci diversi film di doppiaggio con Dino Risi fra cui uno che si chiamava Bellissimo film tra l'altro si chiamava Caro Papà e i protagonisti erano Vittorio Gasman e il ragazzo che faceva il figlio che era Stefano Madia Stefano Madia che aveva una bellissima faccia però aveva un modo di recitare che non era piaciuto a Dino Risi non proveva assolutamente per cui assolutamente lo volle doppiato e io doppiai Stefano Madia il film andò a Cannes e Stefano Madia fu premiato con la palma d'argento come miglior attore non protagonista per quel film e lì andava anche bene il problema quale fu che la Rai che non era a conoscenza della cosa commise un errore che fu quello in un giornale radio di dare la notizia di Stefano Madia sta giudicato dalla palma l'argento al festival di Cannes lo ascoltiamo in una scena del film e mandò in onda me per cui io chiamai la Rai avevo ottimi rapporti anche a loro e gli dissi scusate abbiate pazienza non potete mandare me in onda e dire che è un altro io non mi metto certo né a fare causa né nulla però non potete commettere un errore del genere state facendo una scorrettezza grossa nei miei confronti perché so io non è lui una cosa è se tu mandi in televisione il filmato ma se mandi per radio la mia voce e dici ascoltiamo Stefano Madia non è possibile questa cosa però la Rai la tirò fuori pubblicamente e siccome non era pensabile che un attore venisse premiato per un film né la sua lingua senza aver usato la sua voce il premio gli fu tolto mi dispiacque io non ho fatto nulla per farglielo levare non mi ricordo come finire poi la vicenda se gliel'hanno però mi ricordo che venne fuori questa cosa però lì l'errore era stato clamoroso tu non puoi mandare in onda la mia voce e dire questa è la voce di un attore che ha vinto un premio quando non era la sua però l'epoca si faceva io ne ho doppiati tanti di attori italiani con Dino Risi un altro film con Gigi Magni prendi il nome del Papa Re sono io che ho doppiato lui ho doppiato un mio carissimo amico che era Paolo Turco in pane e cioccolata perché Paolo non sapeva farlo a Cento Veneto e quindi fui scelto io per doppiarlo insomma capitava abbastanza frequentemente poi arrivò un momento in cui nacque la famosa vicenda del vocevolto cioè di pretendere che l'attore che andava sullo schermo parlasse con la sua voce che era sacrosanto e quindi da quel momento nessuno di noi si è mai più sognato di doppiare un attore italiano la critica cinematografica non si cura del doppiaggio e quando si spinge a parlarne si esprime quasi sempre in termini negativi quali sono i motivi dell'indifferenza dei critici nei confronti del doppiaggio indifferenza che spesso si è trasformata anche in aggressività proprio nei confronti del vostro mestiere e anche in passato quando abbiamo detto che doppiavano mostri sacri come Rinaldi Di Meo Graziani come può essere pensabile di criticare la recitazione di mostri sacri possiamo capire magari oggi che il parco di doppietori si è allargato e può capitare un'interpretazione mediocre ma credo che negli anni d'oro della cdc anche l'ultimo del brusio veramente fosse No c'era una qualità straordinaria c'era una qualità straordinaria e certo non si poteva dire che la versione italiana tradisse quella straniera c'erano attori di qualità veramente pazzesca ma c'è sempre stata questa cosa lo dicevo prima c'è una parte di critica con la puzza sotto il naso che è sempre considerato il doppiaggio come una cosa di secondo ordine come una cosa che non va fatta e quindi più che criticare il risultato in sé si è sempre criticato anche con prevenzione e pregiudizio il fatto di aver doppiato continuando a dire ma no va tutto visto in lingua originale e così via a come se il film la cinematografia fosse solo in lingua inglese poi mi spiegano come fanno a vedere in originali i film russi cinesi tedeschi francesi spagnoli norvegesi indiani bollywood e così via b come se tutti conoscessero l'inglese diventa un discorso di nicchia diventa un discorso intellettuale con la puzza sotto il naso e su quello francamente non sono d'accordo sono invece d'accordo nel dire che troppo spesso negli ultimi tempi io per primo ma tutti gli spettatori hanno avuto si sono trovati a assistere a film a vedere film in cui il doppiaggio veramente non era di qualità perché perché non c'era una qualità artistica perché c'è troppa gente che si compiace di se stesso e si parla addosso perché c'è troppa voglia di prevaricare di sentirsi già divo e di pensare che quello là sopra in fondo questa la voglio fare così insomma a volte succedeva anche in passato però venivano stoppati molto prima c'era molta più attenzione io ricordo insomma mi piaceva lavorare vicino a Peppino Peppino si metteva il copione aperto davanti e il primo giro guardava non staccava gli occhi dal leggio e non so come facesse a memoria con la penna si faceva dei segni sul copione dei punti di riferimento di qualunque cosa del fiato di una bocca staccata perché il microfono prende tutto quindi se io faccio questo lavoro il microfono lo capta quindi tutto ciò che è sonorizzazione i cambi di faccia lui assumeva di volta in volta guardava e faceva l'espressione dell'attore era impressionante e dopo un giro lui aveva memorizzato tutto e riusciva realmente a rifare esattamente quello esattamente cioè era una cosa impressionante ecco oggi troppo spesso io vedo colleghi che guardano molto poco là e che rirecitano un po' la cosa facendo allora sì un cattivo servizio perché a quel punto non racconto più allo spettatore italiano vedi come recita quell'attore straniero ma gli dico senti come recita il doppiatore italiano che ha fatto quell'attore straniero e questo onestamente non è corretto però il discorso generale del doppiaggio l'ho fatto prima sarebbe stupido dire no non va affatto vediamo tutti i film in originali a parte che le major americane infatti non sono d'accordo perché perderebbero una barca di soldi perché pensare di avere gli stessi incassi facendo solo i film in lingua originale è veramente impensabile il cinema italiano vive un momento di crisi veramente da tanti anni abbiamo parlato di grandi maestri vi dì ma di Norisi Fellini Moricelli Comincini Scola veramente Sergio quella è stata una generazione straordinaria però di cineasti ma oggi forse il cinema italiano pecca di sceneggiature forse non sarebbe il caso di recuperare anche magari la professionalità dei dialoghisti che sono dei veri e propri sceneggiatori del doppiaggio e per cercare di sollevare il cinema italiano anche da condizioni diciamo veramente di retroguardia ormai una volta il cinema italiano era all'avanguardia del cinema io penso che sia molto difficile riuscire a riprodurre una generazione come quella del primo dopoguerra che ha portato l'Italia per registi come Rossellini Fellini Visconti De Sica Scola Monicelli Risi Comincini e ce ne sono ancora Matarazzo e ha portato attori come Gasman Mastroianni Manfredi Tognazzi Sordi Gianmaria Volontè Monica Vitti Anna Magnani Impensabile o sceneggiatori come Agge Scarpelli come De Bernardi Benvenuti come L'uso Cecchi d'Amico come Gigi Magni come Scola che era gente che scriveva cioè quella qualità e quella fascia generazionale io credo che sia difficilissimo riproporla adesso per esempio secondo me stiamo recuperando molto dal punto di vista degli attori cioè noi stiamo vivendo un momento in cui io personalmente vedo con piacere alcuni attori italiani che sono Bentivoglio che adoro Kim Rossi-Stuart che adoro Elio Germano che trovo straordinario Favino che trovo straordinario ci sono anche tante attrici brave dalla Ragonese ma ce ne sono tanti che stanno c'è una generazione di attori che sta venendo fuori bene ho l'impressione che dal punto di vista delle sceneggiature siamo molto carenti non c'è quella qualità e anche dal punto di vista della regia eccetto alcuni picchi non stiamo ottenendo dei risultati e non stiamo imboccando una strada giusta per quello che riguarda gli adattatori e gli sceneggiatori all'epoca si lavorava anche in un altro modo quelli che erano chiamati i cosiddetti negri che lavoravano sia come sceneggiatori che come adattatori cioè l'adattatore era uno che si serviva di altre persone anche se lo firmava lui l'adattamento che lavoravano per lui stessa cosa valeva per le sceneggiature Gigi Magna ha cominciato a fare il negro mica firmava lui le sceneggiature però qual era la grandezza era quella sui dialoghi sui dialoghi cioè intendo le battute di una sceneggiatura far lavorare su un singolo personaggio una persona diversa questo perché perché fatalmente qual è il problema e il rischio che se io mi metto a scrivere i dialoghi di dieci persone in un film rischio di farle parlare tutte allo stesso modo perché utilizzerò il mio modo di concepire una frase i miei termini e così via mentre dieci persone chiuse in una stanza parlano in dieci modi diversi ognuna ha una sua terminologia ha un suo frasario ha un suo modo di concepire la frase ha un suo modo di intercalare all'epoca ognuno se faceva un personaggio sia nelle sceneggiature che negli adattamenti e quindi avevi una varietà di linguaggio che era veramente appropriata oggi ciao verde né negli adattamenti io dico sempre che oramai un adattamento non si nega a nessuno nel doppiaggio anche il mio portiere probabilmente ne avrà qualcuno fra poco il portiere di casa intendo e un pochino anche nel cinema io vedo ogni tanto vedo firmate sceneggiature cofirmate da persone che veramente non capisco come possono essere stati in grado di scrivere qualcosa e quindi c'è una qualità media che è andata veramente peggiorando gli autori sono un grosso problema in Italia non soltanto per il cinema ma basta guardare la televisione ditemi se c'è un programma che non sia un format acquistato all'estero oggi chi fa l'autore nel 70% dei prodotti televisivi fa quella che si chiama in gergo la scaletta cioè dice alle 12.48 entri tu dici queste cose e fai questo alle 12.54 primo stacco pubblicità ma l'impianto della trasmissione è un impianto comprato in Olanda in Francia in Spagna noi compriamo solo format nessuno ha più un'idea non c'è più un autore che costruisca un varietà televisivo tutti quelli di grande successo tutti acquistati all'estero dal Ballando sotto le stelle a Io canto a Ti lascio una canzone anzi quello di Antonella ma lo stesso Prova del Cuoco ma tutti i format tutta roba comprata cioè in Italia non c'è più un autore questo è vero dramma e non c'è più diciamoci la verità nemmeno la figura del produttore cioè una volta io scrivevo una sceneggiatura mi presentavo bussavo al signor Cecchigori da Marione oppure bussavo da Cristaldi dicevo buongiorno io ho scritto questa cosa il produttore leggeva se la cosa gli piaceva diceva bella mi piace io portavo un trattamento diceva fai la sceneggiatura di questa e faccio il film oggi è impensabile nessuno scrive più niente si scrivono tutti da soli sono sempre più i one man show gente che fa scrive fa il protagonista fa il produttore fa anche il regista del suo film io dico sempre che non mi risulta che Gasman abbia fatto il regista dei suoi film come non l'ha fatto Tognazzi in un paio di occasioni Manfredi Sordi ha cominciato a farlo molto anziano volontè non l'ha mai fatto e nessuno si è mai posto il problema di dire me lo scrivo me lo produco me lo dirigo me lo interpreto oggi è la normalità e questo è chiaro che porta e porta a uno scadimento mostruoso del prodotto finale dopo uno sguardo sul passato un'ultima domanda uno sguardo sul futuro se può anticiparci qualche progetto futuro di direzione di scelta delle voci e di lavorazione devo come dire distribuire si usa il termine questo nel senso che devo vedere le prime puntate di una di una coproduzione italo-francese che deve andare per la RAI e quindi devo non so ancora chi saranno i protagonisti non so ancora niente lo vedo domani vedo domani le prime due puntate e quindi non so nulla e poi altre cose in questo momento è in uscita Hitchcock è in uscita subito dopo un altro film della Fox molto strano e molto particolare che si chiama Stalker molto bello tra l'altro particolarissimo un noir particolarissimo e poi ho scritto anche io un format e lo devo presentare e poi stiamo lavorando a un nuovo spettacolo teatrale abbiamo finito da poco le repliche per il secondo anno di uno spettacolo che viene tratto da un film tra l'altro un film bellissimo degli anni 80 inizio anni 80 con Alberto Sordi e Monica Vitti che si chiamava Io so che tu sai che io so è stata fatta la riduzione teatrale e l'abbiamo fatto per due anni è avuto uno splendido successo sono molto contento e l'ho fatto con grande piacere è stata una grande gratificazione personale e adesso stiamo lavorando a un progetto abbastanza complicato che però se va in porto sono veramente felice allora signor Giuliani noi le ringraziamo di questo suo contributo al nostro ciclo di interviste per la storia del doppiaggio e da ultimo le chiediamo di mandare un saluto a tutti i visitatori del nostro sito ilmondodeidoppiatori.it l'enciclopedia del doppiaggio allora un saluto a tutti tutti coloro che vanno a dare un'occhiata che vanno a informarsi sono sempre di più su quella che è la storia del mondo del doppiaggio quindi ilmondodeidoppiatori.it e continuate a seguirci con affetto con affetto e già lo state facendo studiate ancora di più per capire qual è il confine fra un buon doppiaggio e un cattivo doppiaggio è importante di interviste di interviste Grazie a tutti